Musica Un mimi convoco a tutti quest'oggi vi mostro la partita con la quale sono riuscita a prendere a raggiungere, diciamo così la mimetica d'oro col mio adorato DSR50 è una partita che ho giocato con Laufuego e Chipjack Chipjack poi si è unito dopo in quella partita e me lo sono ritrovata contro mentre Laufuego stava in squadra con me comunque volevo ringraziare Chipjack perché mi ha dato lo stimolo per fare questa mimetica perché davvero sono capitata nelle partite precedenti in lobby davvero assurde in lobby davvero nella quale ho pensato qua davvero ci sono i pro in che senso? nel senso che insomma nella partita precedente a questa ho beccato una lobby dove c'è stava uno con il coltello balistico e faceva le prudezze ti ammazzava di tutte maniere ti veniva vicino ti accoltellava da lontano saltando cioè una cosa praticamente assurda e più o meno anche nelle partite precedenti erano pressoché l'ho fatta pressoché con persone che con la mitraglia mitraglietta con le altre armi se la cavavano bene quindi è stata una cosa abbastanza difficoltosa fare questi sanguinari abbiamo giocato con chip quasi due ore e in queste due ore è stata veramente una cosa abbastanza dura e quindi alla fine comunque ci sono riuscita adesso lo vedrete durante la partita e come ho detto appunto ci tengo a ringraziare chip che mi ha dato lo stipulo e mi ha detto guarda oggi sono io con te facciamola insieme questa missione ti do il supporto mi serviva più che altro mi serviva un supporto morale e lui me l'ha dato bene prima di continuare vi vorrei comunque augurare buona Pasqua e vi vorrei dire che se nei prossimi giorni fino al 2-3 qualcuno di voi mi manda qualche messaggio e io non rispondo perché durante le feste sono abbastanza impegnata ho tante cose da preparare quindi probabilmente nei prossimi giorni più c'è manco lo accendo quindi non vi preoccupate se non rispondo probabilmente chip lo ammazzo tante volte in questa partita perché ho detto è capitato contro e io facevo un po' la tattica no mi guardavo gli spazi per non essere killata ho fatto anche qualche prudezza a uno scopo diciamo ho fatto un po' di cose che mi sono piaciute da fare qui prendo il sanguinario ammazzando forse chip mi pare e come una pazza ballo una specie di Harlem Shake però poi muoio con una bomba che avrei potuto lanciare solo che non lo faccio perché ero troppo felice di questa cosa comunque detto questo appunto se qualcuno di voi perché io comunque dicevo messaggi tutti i giorni se questi giorni non rispondo perché non non posso rispondere perché il pc probabilmente non lo accendo quindi tanti auguri di buona pasca per chi per chi ci crede e tanti auguri e tante belle vacanze per chi non ci crede bene fatto fatti questi piccoli appunti prima che il video si concluda ci tenevo a dire alcune cose alcune cose relativi a console pc mio cugino e mia cugina probabilmente prenderanno la ps4 non lo so non me l'han detto con certezza e probabilmente io mi fregherò la loro mi comprerò mi fregherò vabbè spero che me la diano con le buone comunque probabilmente mi prenderò la loro ps3 e la userò io quindi tutto qui probabilmente mi vedrete anche su console e sulla ps3 perché io sono diciamo un utente sono stata un utonta diciamo così un utente che io ho giocato con la ps2 secondo me la ps2 era la la console perfetta comunque detto questo probabilmente mi vedrete su console e un'altra cosa che volevo dire è questa ho letto parecchi messaggi che mi sono arrivati vale devi passare a console non è vero che su pc si gioca in maniera più non è che mi avete scritto proprio così comunque non è vero che su pc si gioca in maniera più competitiva riassumo io secondo me si gioca in maniera più competitiva secondo me a mio parere perché comunque i comandi mouse e tastiera ci consentono almeno a me che sono diciamo una una che ha giocato a fps sempre con mouse e tastiera mi consentono più libertà e più agilità nei movimenti probabilmente con il joystick non riuscirei a fare tutte queste cose e secondo me su console ci stanno come i miei due cugini che credo di avervene parlato poco fa se non mi ricordo male comunque come loro che sono diciamo utenti che giocano in maniera occasionale sulla playstation su console secondo me ci sono utenti occasionali che li vedi giocare una volta ogni tanto quindi chi gioca di più è più avvantaggiato perché comunque si becca l'utente occasionale lo riesce a chillare più facilmente quella è la mia idea mentre su pc a mio parere sempre io becco comunque molto spesso persone che che giocano si vede che giocano molto e che se non ti stai attenta te fanno un mazzo così quindi secondo me la cosa che differenzia pc e console sono gli utenti cioè l'utente occasionale della console e l'utente abituale del pc detto questo spero che questo video vi sia piaciuto e al prossimo video tanti auguri ancora di buona pasqua ciao